Musica Benvenuti ragazzi con la TheFuttyTella Channel e siamo qui con una nuova sfida di creazione ebbene se ho deciso di sbloccare Daily Alli 91 Player of the Year anzi Young Player of the Year carta veramente eccezionale che mi è costata anno un po' come vedete questo l'ho pre-registrato perchè l'ho già sblocchiato e vado a far vedere tutte le squadre che ho utilizzato questa è la squadra dell'Inghilterra perchè l'ho fatta vedere prima perchè questa sfida oltre a dover avere la fedeltà bene se ho dovuto giocare 10 partite con questi giocatori ci sono giocatori che troveremo anche nelle altre sfide quindi li ho dovuti usare per poi andare a riprendere nella lista di esperimenti come vedete qua mancano due giocatori ma perchè il gioco non me l'aveva messi quindi andiamo a rimettere Bakari Sagnà come terzino destro e un terzino sinistro argento dell'FL League 2 o l'FL League 1 anzi quindi la serie C inglese per capirsi questo è Lewington che va a completare la squadra due IF sono francesi che mi sono costati pochissimo 7000 crediti questi gli altri giocatori comunque alcuni costano perchè purtroppo c'è da portare su l'overall però ho intorno a 2000 crediti gli altri bronze e argento veramente poco i due IF come vi ho detto 7000 crediti e poco più e quindi andiamo a completare anche questa squadra dell'MK Don'ts in questa non c'era bisogno di fedeltà quindi state tranquilli li ho comprati tutti i giocatori quindi nessuno aveva la fedeltà quindi sfida completata diamo un pacchetto oro premium andiamo con le altre 4 sfide purtroppo sono 6 sfide sono tante e questa sfida in totale a me è costata 400.000 crediti però ho utilizzato i giocatori che avevo giocato in club soprattutto in questa sfida avevo già vari giocatori nella sfida 86 più intanto sblocchiamo la sfida di Spurs dove dovevo andare a riprendermi Hurricane e Pedrito come steno sinistro perchè li abbiamo utilizzati nella prima sfida dell'Inghilterra quindi qui dovevamo utilizzare un IF ha utilizzato Keen difensore centrale mi ha costato 30.000 crediti ma andando in porta 4.400 Harry Kane e Eriksen intorno ai 6.000 2.000, 3.000 tutti gli altri giocatori anche a Spillipeta 3.800 Keen come avete visto 30.000 crediti e Zabaleta già l'avevo nel club ma comunque l'intesa dovrebbe essere lo stesso 100 se non arriva a 100 vi basta spostare i 2 CC a CDC non dovrebbe costare tanto il cambio ruolo e quindi andate tranquilli qui come vedete abbiamo due giocatori che abbiamo utilizzato nelle altre sfide ovvero David Silva e Petr Cech ovviamente perchè hanno overall abbastanza alto non costano tanto intorno ai 16 15.000 crediti ecco qui David Silva e andiamo a inserire anche Petr Cech questa squadra avevo già vari giocatori dovreste farcela comunque con l'intesa non dovrebbe essere un problema adesso vi faccio vedere tutti Farman ce l'avevo già Aspaso ce l'avevo già Reina ce l'avevo già Andanovic 13.000 Payet ce l'avevo già e poi gli altri Lenon lo dovevo comprare 7.700 gli altri due avete visto sui 15-16.000 e Farman che ce l'avevo già ovviamente potete mettere qualsiasi 83-84 che avete già nel club basta che utilizzate le stesse valutazioni per ogni giocatore quindi se io utilizzavo con 182 287 186 e vari 83-84 voi rimettete le stesse valutazioni questa era la sfida che ovviamente mi è costata di più 11 giocatori della squadra della settimana da scambiare per Dali Alli sfida che mi è costata 200.000 credit tondi tondi quasi tutti intorno ai 20.000 infatti fate la media 18.000 credit a testa circa di media e infine la sfida dove dovevamo dare Dali Alli o Harry Kane speciale inizialmente si poteva dare anche un bronzo però io non ho fatto un tempo perché non so c'era un bug però Dali Alli comunque lo scambio volentieri visto che andrò a prendermi un altro Dali Alli eccolo qua 91 di overall carta allucinante ho deciso di mettergli ombra ho messo in intesa per pompargli la velocità fino quasi al massimo e poi pompargli la difesa per avere un centrocampista veramente completo andiamo però a aprire i pacchetti sperando di trovare qualcosa interessante quindi pacchetto oro premium maxi non lagga nessuna carta speciale niente di che ATT del Mets non so nemmeno chi è una sanità è Diabatè Psyin Balata Alta Grifo Ionita veramente niente quindi andiamo a inviare tutto al club e scartare ciò che non ci serve quindi scartiamo questi 3 consumami li inviamo al club e andiamo a vedere il secondo pacchetto cosa ci regala quindi pacchetto giocatori oro premium da 25k guardiamo un pochino con 3 giocatori rari o da 15k non ricordo troviamo Pizzi del Benfica non può essere che Pizzi quindi Pizzi Quintero Peña Randa vari giocatori Cannavaro eccezionale Lumi Samstrong quindi perfetto Toroi vabbè inviamo tutto al club e andiamo con un altro pacchetto questa volta vado con un pacchetto giocatori oro prime quindi oh si ci sono due di pacchetti giocatori oro prime quindi decido aprire quei due andiamo a vedere un pochino niente di che purtroppo portiere polacco è Czesnik e andiamo a vedere gli altri giocatori di torres Mario Rui quindi due giocatori da Roma ma nient'altro veramente Quintero di nuovo e Gazzal che non è Ghezzal ma è Gazzal andiamo avanti con un altro pacchetto di giocatori oro prime ovviamente non lag ovviamente nessuna carta speciale ovviamente nessun con un 84 più c'è solo Matic che abbiamo utilizzato nelle sfide ho pagato 2.500 quindi 2.500 che ci ritornano Fernandes Moses Hernandez Torz benamente niente di che comunque Matic lo rimette al 2.500 e lo rivendo al 2.500 anche Paredes che vale qualcosina è intorno ai 1.000 gli altri decido di inviarli tutti dal club a parte quello Vradovic che venderò anche con una buona cifra anche lui intorno ai 1.000 mi pare andiamo con il pacchetto mega quindi da 35k ancora niente ancora palline piccole è veramente una sfiga eccezionale troviamo Bender quindi un altro 83 che si vende bene mi pare intorno ai 3.000 crediti Trigheiros Iesee e Ocampos eccezionale tanti altra roba che invierò al club o scarterò se non mi serve 4 forme fisiche quindi fanno comodo visto che ritorno qua su questo account aggiorni le forme fisiche mi faranno comodo visto che qui utilizzo una sola squadra Mario Rui di nuovo Paul East e Van Aken per questi altri scambiabili ma adesso andiamo al pacchetto dove troviamo un walkout un walkout incredibile eccezionale la palla non è enorme quindi già era un po' dispiaciuto qui vedo Uruguay e dico cavolo è Suarez invece no la palla non era enorme quindi non poteva essere Suarez e Diego Godin quindi un 88 per lui buono buonissimo mi riesco a me venderlo oltre 25.000 crediti se non erro quindi un po' di crediti ci sono ritornati diciamo che in totale questa sfida mi è costata più di 300.000 crediti 300 anche quasi 350 vendendo tutto quindi un po' costa però secondo me adesso faccio vedere in che squadra la metto Alli ci voleva Alli mi serviva purtroppo di Cantè non ho nessuna carta speciale quindi pagare solo 300.000 crediti solo per quella carta e poi completare la sfida con altri 600-700.000 crediti per me era un po' troppo era veramente eccessivo quindi ho deciso di fare solo questa sfida di Dele Alli anche perché per la cosa che ho cantè non avrebbe bene intesa mentre Dele Alli si infatti andiamo a vedere SC Arsenal con questa squadra qui con un real con Suarez e con una parte di Parkes Premier League con De Gea Smalling Walker e adesso Dele Alli quindi ottimo così questa squadra è quella che utilizzerò per questa weekend league quindi spero che faccia bene penso lo utilizzerò anche lì quindi ci rivederemo un po' nelle partite visto che sono abbastanza impegnato come avete visto ultimamente purtroppo non ho potuto portare varie squadri delle 6 minuti altre altre serie perché purtroppo sono molto impegnato con l'università però vi ringrazio tantissimo perché siete sempre presenti siamo arrivati a 7000 iscritti quindi vi ringrazio ancora di più vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace arriviamo a 100 mi piace per questa sfida eccezionale di Dele Alli in 91 che è una carta veramente assurda vi ricordo di passare la pagina Facebook il profilo Instagram e il canale Twitch che trovate in descrizione ma io vi ricordo come sempre be yourself stay ignorant a presto Grazie a tutti.